musica 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 oh merda non mi dire che ci no dove france porca puttana che paura io stavo qua mi faccio prendere una paura che personaggio c'ho io oddio come sei scappato da qua mo sto di zompa che ho fatto indietro ma qua dentro mato la puttana che cos'era qua verso era il corno bellissimo se andavi tu ma come se andavi e si può ma dopo ma quanta violenza eh però questa non si come sa perchè ma è fuoco eh cazzo perchè sei parto da sola mi hai spostato pure il culo ah ok va a fare un culo eh però entra qui no no ho paura ma dai oh no io entro da destra e chi è il mio vicescino no non è vero entro da qua io ah eh si perchè comunque oh cristo oddio hai visto noo passato uno dalla finestra andiamo a picchiare ehi siamo scerifi qua ah beh è molto da te qua vedi visto non c'è niente da preoccuparsi di cui preoccuparsi la puttana nel moda mondo che stavo mi stavo fallangelo addosso alla borsa paura va fa moca ma che posito silenzioso ahia un piede di porco ho trovato però eh 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 vabbè tanto siamo proprio una pulla bastarda siamo ma oh è nero questo è nero ma quindi dove dovremmo andare si apre sta porta ok ma qual è il piede di porco c'è il fucile ce l'hai fatto no come 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 fa perchè a te va me no a te non va che cazzo di prova tu a passare ma ti sfido vedi non ci vuole sa puttana prego perchè vai a cazzo che paura ma come si sfonda sto cosa col piede di porco nooo il piede di porco questo è sparta pazz col piede di porco si col piede di porco si figa c'è uno in sedia a rotelle che cazzo cos'è che faccio il polizio fileri oh minchia proprio è vivo no 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 è dopo una roba di pistolettate da proprio poliziotto che diamine ha digerito male oh oh cazzo ma non bisognava triggerare qualcosa che cosa ma merda l'abbiamo ucciso di nuovo l'abbiamo ucciso ah che che si 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 non puoi metterti contro la pula oh oddio che sei quello ma siamo stati noi questo che cosa ha dischiato che c'è il modo in cui polizio scopo 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 i funda un grado che fa che c'è il motore ma se siamo dalla pula è troppo facile ahahah si si se ti levi la una decoglione posso passare sento che ci si che c'è una una weapon qua vicino una weapon qua vicino ma tanto noi ce l'abbiamo già vai pam 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 oh lì, sfocchio apri anche tu la beretta ok che cazzo è successo? hai visto una te eh è me scomparcio il mirino ah era comparsa una tizia qua l'ho metto l'aliata ma è scomparsa da subito quindi non l'ho colpito ma che veramente ma what però sento dei ma no, l'ho aperto qua ah ok, andiamo fuck the police, come straight come on the ground tu non ti non si sa mai perché si sveglia madonna no, stavo ricaricando madonna, povera, andiamo a svitragliato allora io mi abbasso, apro e svitragliato uno, due, tre, vai ok perca di carico aspetta, aspetta, cambia appunto prendiamo l'astiglieria, prendiamo ok, però ah no, ok, vai, vai ok ma sembrano sai quel film police che come apre una porta smitragliano timo bad boy, timo bad boy sei presto allora qui si va di artiglieria pesante oh dio mi riesce a scoprire un altro ufff mi riesce a scoprire un altro altro ah ah, dove è? c'è una irruzione vai vai, pronto no due, tre via 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 spara, spara, spara erano qui nei finiti è caduto uno shiba che cazzo?